Iiii di utilizzare il pc come piattaforma primaria e questa è una grande bella cosa una cosa per la quale la gente se ne deve accorgere ma che hanno l'audio l'ho visto ma che purtroppo si verifica molto raramente allora abbiamo visto delle cose mi ha visto il video postazione in video donna quanto chiacchiero allora la postazione video 920 per 1080 4 per queste sono bloccate ma credo sia ultra quindi sarà il massimo si speriamo non scatti in fase di registrazione ci buttiamo subito sul new game e l'extra deve essere filmato dove essere filmati vai januari 17 24 36 sector 6 european district bazaar city HQ Fletcher here patrol completed I'll be a choose moonshine have someone join me after the shift is over I don't like to drink alone most of the days are like this I'm a proud soldier of the corporation others like me are made by the PR department to be sentinels of the sanctuary the defenders of the store amusingly I do it for the money we defend the sanctuary a network that holds billions of digitalized personalities of human beings the machines are our enemy the corporation's eggheads proposed a theory implying the existence of an unsurpassable evolutionary limit of the current AI the sanctuary is the possibility of the machines to break this limit come in Sector 6. Multiple casualties. Send backup. Impossible. These readings... For fuck's sake! Are you blind? At least 7 dead. No visual contact with the enemy. 6 roger CLN-16. Incident location. Sector 6. European District. All units go red. Regroup on CLN-16. CLN-16. Conduct an area recon. Just don't go postal, Fletcher. This sector has been compromised. Get to the breach. Investigate. And gather evidence of rifle. Subito. Ok. Questa specie di robottini alla Borderlands. Con una bella lama a spaccaculi. Ok. Questo vediamo. Ah! Posso sparare le robe elettriche. L'interazione con l'ambiente è sempre un qualcosa di gradito. Vieni. Allora. Quelle sotto. Allora. Le rosse sono le munizioni. Poi ci dovrebbero essere del... Vediamo un po'. Ci dovrebbero essere anche delle monete per acquistare potenziamenti armi. Da questo... Ah, ecco lui. Hola. Poi almeno te lo aspetti. Allora, qua... C'è una... Un'area segreta. Ah. Un po' di points. Ah. Con la R abbiamo... La freccetta. Vediamo un po'. Nessuno. I points nascosti ovunque. Vediamo se posso cambiare arma. Non solo questa, però adesso. Vediamo un po'. Vediamo di tutto. Mi piace questa arma micidiale. Non devi neanche ricaricare. Spara la raffica. Ah, questa? Interaggiamo con questa? O lo spacchiamo? Lo spacchiamo. Bisognerebbe fare... Farsi furbi e sparare le cose elettriche. Quando arrivano i moschi. C'è qua. Corsa. Oh. Quella madonna. Corsa è a tucco. Molto non. C'è la? Eccco. Eccco. Questa volta la botta elettrica Ha funzionato A questo Ok Dobbiamo togliere l'energia Da qua dentro Ah C'è un barile Bella madonna Non c'è una torcia Ok Ok Adesso che l'abbiamo spento Arriverà l'anima ad attaccarmi Venite ragazzi Ok da qua Possiamo disabilitare Bella La corsa è spettacolo Non può più correre È già stanco Ho fatto due metri È una corsa davvero zama Questa Passiamo di qua Ok Guardate che Guardate che Direi Direi Davvero efficace Davvero L'elettricità Spacca il culo I points Sono nascosti Nei luoghi più impensabili Do not damage Public property Ah Ok Eh Perfetto Ah forse qua Oh Esplosivi Ah vediamo questo Gli upgrade Madonna Che storie magre Guardate che storie magre Allora Abbiamo l'assault rifle Che deve essere quello che ho adesso Il piranha Con la gutling Cyclops Firestorm Ah Turbo engine Na N.O La moneta locale Dano Che non ne ho abbastanza Ok Abbiamo potenziato Abbiamo aumentato il rateo di fuoco Andiamo di qua Ciao